e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi devo parlare assolutamente con voi di una cosa importantissima che riguarda clash royal ragazzi sta praticamente succedendo una cosa molto molto grave che ancora gli sviluppatori di supercell non hanno saputo risolvere e ragazzi attenzione si rischia davvero il proprio account di clash royal che cosa sta succedendo ragazzi c'è praticamente un bug molto molto pesante relativo al baule cangiante ve lo ricordo ragazzi noi non possiamo droppare questi nuovi bauli che sono stati inseriti con l'ultimo aggiornamento di clash royal ma abbiamo la possibilità se non vogliamo acquistarli con le gemme nello shop di trovarli nelle missioni in questo caso siamo nell'account della pamina e lei ha appunto il baule cangiante disponibile che cosa potrebbe succedervi praticamente ragazzi succede a parecchi player che al momento dell'apertura del baule cangiante o meglio quando termina il numero di trofei necessari per andare appunto ad aprire questo baule appare un messaggio di errore che è relativo alla sincronizzazione del nostro account di clash royal con i server di supercell che cosa succede praticamente quando ci appare questo errore il gioco crasha e noi ad ogni nuova riapertura non potremo rimanere più di qualche secondo sul nostro profilo quindi ragazzi c'è veramente un problema grave alcuni youtuber che hanno avuto questo problema hanno tentato di contattare il team di sviluppo di supercell ma essendo sotto le feste ragazzi anche loro sono in vacanza e quindi soprattutto oltre a non dare una risposta positiva chi è riuscito a contattare direttamente il team ha ricevuto come risposta che finché l'errore non accada anche ad uno dei loro profili privati non possono trovare una soluzione l'unica soluzione al momento ragazzi l'ha trovata il nostro amico ferre lo conoscete benissimo sicuramente che cosa dovete fare lui ha avuto questo problema per parecchi giorni non sapeva cosa fare ha contattato anche altre persone vicini al team di sviluppo di clash royal e la soluzione è stata non dico semplice ma molto molto funzionale praticamente ragazzi che cosa dovete fare ve lo faccio vedere ve lo faccio vedere in modo che lo capiamo tutti qui c'è il nostro baule cangiante ragazzi ok riuscite a vedere qua in alto vediamo qua c'è il nostro baule cangiante quando noi arriviamo alla possibilità di aprirlo lo sappiamo diventa giallo e ci dà appunto il bottone con scritto apri il baule ragazzi voi non lo potrete fare se vi dovesse capitare il bug perché appunto si continuerà a refreshare il gioco voi mi raccomando con una mano con un dito ragazzi andate a fare il refresh del gioco io spero che voi riusciate a vedere qua centralmente vi dirà di fare il refresh e non appena riuscite ad aprire il gioco cliccate velocissimi velocissimi sul tasto missioni ok con un dito e con l'altro dito ancora velocissimi ragazzi sopra il nuovo sopra il bottone dove c'è il baule cangiante non riuscirete alla prima volta ma è l'unica soluzione per ovviare a questo bug ve lo ricordo ancora una volta ragazzi andiamo a refreshare il gioco quando ci dirà che non si riesce a sincronizzare il nostro account con i server di supercell con la mano destra e l'indice refreshiamo il gioco con l'indice della mano sinistra clicchiamo velocemente su missioni abbiamo pochissimi secondi e poi ancora più veloce ragazzi con il medio sempre della sinistra sul tasto per aprire il baule ovviamente non riusciremo a vedere quello che contiene il baule ma perlomeno sbloccheremo il bug che così ci darà di nuovo accesso al nostro profilo di clash royal beh ragazzi io spero che questo video possa essere utile a tutti coloro e spero siate in pochissimi che abbiano avuto questo bug vi ricordo però di lasciare un bel like se vi è piaciuto ed iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto noi ci vediamo presto tanti auguri ciao